La fretta, il lavoro, i contrattempi possono causare allo stomaco dei problemi come l'aumento irregolare di acidità che provoca bruciori. Prendete magnesia bisurata aromatic. Una o due pastiglie di magnesia bisurata aromatic assorbono in fretta l'eccesso di acidità nello stomaco ed eliminano i bruciori. Magnesia bisurata aromatic. Seguire attentamente le avvertenze e le modalità d'uso. Magnesia bisurata aromatic ridà serenità allo stomaco.